escono gli uomini della reggiana vedete uno è qua queste ragai qualche tifoso con forza dell'ordine qualcuno dello staff della reggiana che cos'è glielo posso chiedere grazie capisco che non sono una grande testata e quindi poi perché hanno vinto no immaginassi se avessero perso figo cattane esce gianni sant'andrea con la moglie complimenti per la carriera in lega vedo tutto vittorio catani direttore generale con un fico bravissimo gianni sant'andrea ciao ciao qualche tifoso della reggiana proviamo a tentare facciamo vedere la giù se questa tifosa alla quale io sono particolarmente antipatico quindi dice che l'amica delle forze dell'ordine sarà sicuramente così ma insomma il curioso di tante situazioni vittorio cattani anche i colleghi che scendono e gli potrebbe essere giuseppe marotta potrebbe da giù c'è un vice di qualcuno dello staff da dare a ritardo spiegamento di polizia nicola simonelli con signore ecco l'irà che chiudono per noi vedete scientificamente ecco l'ora alberto monguidi marcelo tosi alberto monguidi con marcelo tosi grazie ma te lo addemagni forse beh dal ciuffo direi addemagni direi proprio addemagni però possiamo sbagliarci riconosco dal ciuffo ordemagni io sono grande grandissimo da povero da disoccupato da evitato vedi sono qua e si chiedono interveniamo lo allontaniamo e così chi sono che non riconosco uno il vice del mister vice collaboratore del mister ecco beh complimenti grazie per la carriera ma quando ti presentano io registro quando ti presentano io lo so quando fa un gol ciao in realtà volevo salutare mimo di carlo ma volevo andare anche chissà anche stanotte Matteo Ardemagni che parla con casa beh oggi va abbastanza bene se lo addemagni è laggiù diamo un'occhiata anche lì sopra qui esce ecco qui usciranno entreranno come si chiama che non mi ricordo il vice avevamo già un'intervista dell'anno scorso no 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 ma c'era già l'anno scorso ah infatti posso chiedere qualcosa sulla sua storia? questo non interessa no certo certo io racconto quelle di tutti quindi figurarsi andiamo io star lì ma car delta